Abbiamo vinto a Milano, quello era la seconda diretta, non avevi detto che era questo scontro diretto. Abbiamo perso la partita come abbiamo vinto l'altro, quindi siamo solo a settimana giornata, quindi c'è ancora da pedalare, quindi siamo qui in Stato, non c'è bisogno di 10 scontri diretti, scontri diretti che si fanno da prima. Cosa ti ha sorpreso dai Napoli? No, niente, sapevo come giocano, sapevo che giocano molto bene, fanno tanto con sesso, però secondo me quando siamo usciti nel secondo tempo ho avuto le sali alti e abbiamo vinto la nostra occasione. È difficile ora per le prime posizioni? No, ho capito, ho capito, pensiamo ad ottobre, che Napoli vince sul lettore, no, quella è quella più forte. L'ultima, grazie. No, secondo me non ha detto la prima posizione. Grazie ragazzi, grazie. Grazie.